Allora, sta cambiando tutto, non sta cambiando soltanto su internet le applicazioni. Oggi non credo che ci sia più bisogno di fare l'ennesima applicazione che ci consente di condividere le foto o di mandare messaggi a un amico. Oggi sta cambiando il modo in cui produciamo le cose. E come è diventato più facile farsi un sito e fare un'applicazione, è diventato più facile produrre oggetti. Questo è dovuto al fatto che ci sono delle stampanti 3D che costano molto di meno, che ci sono delle dettagliatrici laser che sono più facili da usare o che ci sono delle schede come Arduino che sono facilissime da proclamare. I bambini fanno delle cose fantastiche usando Arduino che costa 20 euro. Questo vuol dire che tutti possiamo produrre oggetti, inventare oggetti che sono molto più difficili da prima. E questo apre spazi infiniti. Oggi la vera innovazione non sarà più probabilmente nel mondo del software, nel mondo digitale, del digitale classico, ma sarà nel mondo dell'hardware, degli oggetti fisici. Sono questi che vanno reinventati, vanno resi intelligenti e vanno soprattutto customizzati. Questo ci renderà possibile passare dalla produzione di massa alla produzione personale, cioè dal fare un oggetto uguale per milioni di persone a fare un oggetto singolo per ciascuno di noi, fatto in un certo modo. E questo richiederà un minimo minimo di competenza tecnologica, ci sarà davvero una cosa possibile per tutti. Non è necessario neanche usarla una stampante 3D. A volte è sufficiente disegnarsi un oggetto al computer, mandarlo in un fab lab o in un posto adatto e farsi rivedere e mandare indietro il prototipo che se funziona a quel punto lo metti in produzione o in vendita.